salve mister saporito casetta sport al netto della vittoria una curiosità ma al primo tempo il crotone ha sbagliato formazione no assolutamente come facciamo a dire che ha sbagliato formazione hanno giocato giocatori che hanno giocato un po meno in questo periodo ma io penso che la rosa del crotone sia una rosa di Videl quindi a prescindere da chi possa giocare io credo che possa sempre fare una grandissima figura in questo campionato quindi no credo siamo partiti un po in sofferenza perché siamo andati sotto di un gol un gol fortunoso perché è stato un autogol e poi dopo la partita ti si mette male quindi abbiamo sofferto e poi dopo c'è stata la grande reazione al secondo tempo che ci ha portato questa vittoria che a mio parere meritata sofferta ma meritata salve mister giuseppe livadotti della provincia ormai il crotone deve solo rincorrere al momento se gli altri non si fermano e di mantenere sempre adesso si evince che con il crotone vogliono tutti fare bella figura oggi l'andrea ha dimostrato di non meritare l'ho detto anche al tecnico non ha meritato non merita il posto che occupa in classifica però il crotone non voglio ripetere la domanda un primo tempo sembrava completamente assente e nelle giocate e con la testa perché non ha riusciva a concludere un'azione in ripartenza tra virgolette degna di questo nome è chiaro come diceva lei che in questo momento bisogna rincorrere ma voglio dire il campionato molto ma molto lungo quindi dobbiamo avere la forza di rimanere aggrappati ma lo stiamo facendo e siamo convinti di poterlo continuare a fare detto questo primo tempo come dicevo al suo collega è stato un primo tempo di sofferenza perché quando vai sotto non è mai facile poi con noi come diceva lei tutte le squadre sono molto agguerrite vengono a giocarsi la partita con tutte le loro forze e l'andrea ha fatto ha fatto questo noi avevamo qualche giocatore come avete visto tribuzzi che non era non stava benissimo gli giravamo con la testa quindi abbiamo sostituito siamo andati un po un pochino in difficoltà ma neanche voglio dire abbiamo gestito primo tempo poi secondo tempo però abbiamo fatto una partita gagliata una grande reazione che non era semplice è sicuro ci hanno anche annullato un gol che abbiamo rivisto era valido quello di Tuminello il rigore che loro reclamano non c'era perché io ero proprio vicino lì ho visto entrata di veladimi nettamente sulla palla poi l'altro li ha rovinato addosso quindi io credo che alla fine con la reazione che abbiamo avuto una grande reazione cotone abbia ampiamente meritato di vincere questa gara mister salve gianfranco turino rosso blu e io volevo ritornare un pochettino sulle scelte però perché la sua analisi perfetta il secondo tempo crotone ha fatto il crotone nel primo non c'è riuscito ora merito dell'avversario del merito del crotone però ci sono due tre cose che vorremmo chiarire vorremmo che lei ci chiarisse innanzitutto crialese giron che è stato il cambio al 45 si un poi tra primo e secondo tempo e si è vista la differenza e giron non era un giocatore che crialese non ha superato la tre quarti mister non è arrivato una volta sul fondo a crossare se vuole la rivediamo insieme si fermava sempre sulla tre quarti non dava neanche la sponda a panico seconda domanda la sostituzione di panico al quinto del secondo tempo cioè noi perdiamo uno slot ne abbiamo perso uno nel primo tempo perdiamo uno slot al quinto del secondo tempo e per fortuna golemic c'è una roccia perché se crollava su quella quando si è sacrificato per la squadra noi rischiavamo di fare l'ultimo in dieci pure quindi queste tre cose se me le chiarisci ma c'è poco da chiarire che alese un ottimo giocatore la scelta del mister è andata su di lui ma non possiamo parlare male dei nostri giocatori i nostri giocatori danno l'anima crialese ha dato l'anima come ha dato l'anima giron se gioca uno piuttosto che l'altro per noi cambia poco perché li riteniamo tutti all'altezza poi che possano avere un rendimento in un tempo in una partita più o meno elevato uno rispetto all'altro questo fa parte del calcio credo che non possiamo mettere la croce addosso a un ragazzo come il calese che vi assicuro che è un ottimo giocatore però no ma nel senso che lei mi dice che non ha superato la metà campo non ha fatto il coso insomma no io non me la sento per noi i nostri giocatori sono tutti dei tesori bravi e noi siamo sicuri di questo e siamo convinti di questo però voglio dire ognuno ha le proprie idee ci mancherebbe altro non è che e qual è la domanda no però voglio dire no ma beh ho detto scusi ma voglio dire sto rispondendo vabbè ma non è un problema nel senso che le ripeto forse sbagliato dire la cosa no insomma comunque non ce la sentiamo di 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 criticare un giocatore così aspramente come lei ha fatto secondo me dicendomi quella cosa lì e noi li riteniamo alla pari perché se fanno parte della rosa del crotone sono tutti i giocatori validi che poi giochi uno piuttosto che l'altro cambia poco e poi ci sono anche i cambi e quindi alla fine voglio dire non credo che ci siano grossi problemi cosa mi aveva chiesto ancora ma gli slot sa quando siamo in una situazione come quella che bisogna cercare di trovare input nuove cose ci sta anche che uno sprechi uno slot ma è il fine tattico quello che conta è l'obiettivo e il raggiungimento di quell'obiettivo quindi voglio dire si può anche sprecare uno slot a mio parere Maria Rosalia De Pietro e Retti Calabria innanzitutto siamo tutti contenti per la vittoria però oggi si è visto un po' il centrocampo in sofferenza un po' forse l'Andria diciamo ha fatto bene lì rispetto a noi però ecco sembrava un po' più in sofferenza rispetto al solito ma sicuramente all'inizio quando avevamo tribussi in quelle condizioni abbiamo un pochino sofferto perché Alessio gli girava la testa non stava bene immediatamente all'inizio della partita quindi magari come dice lei in quel frangente può darsi che si sia sofferto anche un po' più del solito ma ripeto non sono partite facili mai né contro l'ultima né contro la penultima né contro sono sempre tutte partite difficili e ancora una volta l'Andria ce l'ha dimostrato però io sottolineerei quel che di buono ha fatto vedere la nostra squadra soprattutto in riferimento all'ottimo secondo tempo e alla vittoria che ha avuto a tutti i costi e ha raggiunto l'obiettivo insomma Mi permette Ministro riprendo la parola venerdì anzi ieri parlando con il tecnico Lerda aveva letto abbiamo digerito la sconfitta nel derby ma è sembrato invece che siete entrati in campo molto nervosi e con molte scorie addosso proprio di questa partita l'impressione è stata questa poi la seconda domanda perché Branduani no e Awa no? ma no ma ripeto il Ministro ha fatto delle scelte i giocatori sono tutti i valori abbiamo due ottimi portieri il Ministro ha scelto di far giocare Dini ha scelto di far giocare un altro centrocampista come Vitale al posto di Awa abbiamo tante partite una in fila all'altra e quindi ripeto la Rosa è ampiamente valida e dà garanzie per potersi permettere voglio dire di fare i cambi che uno crede come il Mister di voler fare e quindi non credo che ci siano problemi sotto questo aspetto ma l'approccio della gara non è che siamo stati nervosi perché noi siamo andati in sofferenza dopo gol subito ma non siamo stati nervosi perché tu se sei nervoso questa partita non la recuperi più ma non è che ci siamo fatti innervosire abbiamo continuato a giocare il primo tempo lasciandolo scorrere poi il secondo tempo abbiamo accelerato vincendo la partita insomma non ho visto una squadra nervosa onestamente non c'è la sicurezza non c'è la sicurezza nell'esame ma quando guarda che il calcio il calcio non è sì il calcio non è mai una certezza non c'è mai certezza nel calcio e quando vai in svantaggio in casa non è mai semplice rimediare le partite ripeto nessuna partita è così facile e quindi c'è da fare onore a questi ragazzi che hanno lottato fino all'ultimo e hanno portato a casa questa vittoria che vi assicuro non è una cosa semplice quando vai sotto quindi io penso sempre in positivo e sottolino le cose che sono andate bene e quindi siamo contenti di questo sono domande pre-foggia il mister ha discutito sarà un punto 9 poi questo non c'è quello che non ha votato beh adesso vedremo la situazione dei giocatori come siamo dopo stasera insomma domani mattina faremo un po' un resoconto e poi decideremo quello che sarà la paella di Foggia e poi quella di Literbo insomma abbiamo due trasferte ravvicinate distante un po' più di sicuramente il ragazzo della primavera come è un progetto beh credo proprio di sì ci può stare questo adesso domani ripeto valuteremo e poi se ci sarà necessità sicuramente attingeremo dai ragazzi che così bene hanno fatto nella partita precedente di Coppa mister che partita ci dobbiamo aspettare per la Coppa Italia il Foggia si è ripreso diciamo col cambio dell'allenatore noi veniamo diciamo non è andata bene a Foggia la partita però potrebbe essere un modo anche per riscattarsi certo noi abbiamo voglia di riscatto perché non avevamo fatto una grandissima partita a Foggia e quindi abbiamo voglia di riscattarci è una partita da dentro fuori quindi bisogna bisogna affrontarla con la giusta intelligenza perché insomma ci teniamo a passare il turno come penso ci tenga il Foggia e quindi andremo a fare una partita a Gagliarda e cercheremo di passare il turno di passare il turno di passare il turno di passare il turno